Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono sempre in posto al canale Megalexio e oggi siamo, anzi sono nel terzo episodio di Bully, Scholarship Addiction non so dove eravamo rimasti, però comunque continuiamo questo fantastico gameplay su questo gioco bellissimo, da goderselo tutto quanto, spero che il salvataggio non si sia smerdato e che diciamo che, ecco, no mi sa che sia smerdato, però comunque taglierò un po' di pezzi nel frattempo al limite cazzo da nozzi che cosa? sociopatica significa, non vedi, non mi pare, non mi dimentico che ho detto, ho bisogno di me per me, chiedi mi per me, chiedi mi per me? ho alcuni libri che devono essere ritorno, ma mi preoccupa di andare in mio gioco mi sembra come libriare? no, no, ho bisogno di te vuoi, pretengo che siamo amici, vedi con me, i'll pay, i'll pay 2 bucs, sono you crazy? Un box? Cos'è che Dollars una volta? No, due bucks? Great, five bucks. Let's go, buddy. Ma come cazzo cammina questo? È un pinguino, è un pinguo, raga. Accompagnare LG a scuola. Ok, proviamo che questo ciccione a volte non mi segue. Ho un completo ritardato. Eh, dove vai? Ci provai immediatamente a toccarmi. Mi vedo il cuore con un cugicino. Ecco, va, te ne va. Ok, la German. Oh, si chiama LG o Gen... Oh, cazzo. Lo stesso al muro. Che bello. Buono, più tutte e due. Ok, questo è morto. Mi ha mai tosto al muro. Aio. E mori. Oh, finalmente la ora. Dai. Perfetto. Il nostro attorno all'aragio è incontro a rovescio a portaggio al bagno della scuola prima che finisca il tempo. Però se si muovesse su LG però, è un ciccione che si muove. Ok, il bagno di maschi dovrebbe stare qua, né veloce dall'altra parte. Quindi vieni con me. Al bagno, dai. Al bagno, dai. Ma proprio, proprio, merda. No. Non me lo toccare. Sto tutto, è andato a te. Prima che... Prima che... Sviate, sto andando a te. Poi... Boh. Uh. Uh. Che fegno. Uh. Uh. Che fegno è attirato. Ah, grazie. Allora. LG, dove sei venito? Ciccione di merda. Dove cazzo è andato? Dai, muoviti. Noi, dai. Su. Il bagno sta qua. Il pò di merda, vai. Ah. Porta LG all'altro bagno. Qual è l'altro bagno adesso? Oh, cazzo sta lì. Minchia via. No. Cazzo, devo voler scappare. Le palle, proprio mentre c'è lezione deve rompere il cazzo questo. Dove è l'altro bagno? Scusi, eh. Che è sta roba? Prende. Cazzo, eh. Dove è l'altro bagno? Per Dio. Questo è il bagno delle ragazze. Che si mesi in cura, no? Oh, Cristo, Dio. Vai via. Vai via. Le palle, però. Tiro, tiro, tondo. Su questi cazzi. Dai. E dov'è l'altro bagno, porca puttana? Vedo che sia sulle sch... Vedo che sia sul piano superiore. Dai, vattene! Minchia, se mi... Mi giocca sul cazzo. Dove l'altro bagno? Oh, merda. No, 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 no. Dai, che palle, oh. Ho perso una missione, oh. Che porco tu è dentro da te, cazzo. Dov'è l'altro bagno? Il piano di sopra? Ok. Ok, che cazzo. L'altro bagno dov'è? Possibile che non ci sia un altro bagno? Le donne, eccola, eccola, è stata l'altra parte. Dai, 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 dai. Oh, non ce la faccio. Niente. Io non sapevo che c'era l'altro bagno al secondo piano. Elg si è piagnata, hai fallito la missione. E' pisciato sotto, perfetto. Vabbè, andiamo a lezione. Che vi devo dire? Andiamo a che lezione, eh? Art Room. Ok, andiamo. Lezione di arte. Oh. Caccio. La professoressa Phillips. Oh, che nome, oh. Che bisogna fare? Ristruzione di lezione di arte. Disegna dei riguardi con la tua matita per mostrare il disegno nascosto. Scopri più tela possibile senza incappare. Incappare. Incappare nei nemici. Vabbè, inizia. Ok. Ah, ok. Si fa così. Perfetto. Olè. Minchia. Questo che cos'è? Posso accelerare? Pulato. Olè. Olè. Olè! Fatto. Un attimo, praticamente. Pazza quanto si è... Bella figa. Però... Molto bene. A me ne sono lezione private. Ah, vedi che zonzona, porcellini, lezione private. No, ok, basta. Eh... Ma c'è una... Ma c'è una... Ma c'è una... Ragazzi, c'è un boss in giro del 25%. Figo. Oh, cazzo, se... Fantastico sta cosa. Ovviamente, ragazzi... Nel stile di ragazze di bacio dovrete trovare dei cioccolatini e ho dei fiori da regalare a loro. Perfetto. Quindi, ragazzi, da avere capito bene, se io trovo i cioccolatini o dei fiori da regalare alle ragazze, io posso parlarci, scambiare queste cose e ricevere un bacio. E... Ricevere il 25% di energia in più, ovvero di vita. Quindi la cosa è molto buona. Però, eh... Mando la ciancia e ricominceremo la missione, quella del cazzo con il tribù, eh. Perché... Che vuole questo? Perché, comunque, siamo di idioti. Io non sapevo che... Anzi, io sono un idiota. Io sono un idiota. Non sapevo che c'era un bagno sola, secondo piano, anche se era palese. Ditemi che l'avete visto anche voi cosa ha fatto quel tizio. Salva Elge, ho capito. Andrà a volta. Andiamo avanti, dai. Dai, dai, dai. Ok. Oh, calma. Oh, calma. Ora che so che il bagno di sotto non ci si può andare, andiamo a quello di sopra. E... Visto che c'è poco tempo. Stendi i pull, è un'altra volta. Che cazzo vuoi? Non mi trocca il tribune. Ehi, ehi, ehi. Non mi trocca il... Oh, ehi, ehi. Non mi trocca il tribune. Ok, fuori uno. Ah, vado. Dai, ehi. Oh, la devi andarti. Vai via. Eh, che adesso sta... Atacchi perina. Oh, 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 terza al tassa. Perché è buono? C'è il caso. Oh, prima di me. La madre mi chiama Principe Elgey. Dice che sono speciale con un principino. Ma vaffanculo. Comunque, oh, cazzo. Ma cazzo di cazzo, lo sapevo. Dai, ci sono tribune di merda, muoviti. Ok. Perfetto. Dai, muoviti, mamma mia, quanto è lento. Guarda, a barra blu, il palino blu, vai quando dove sono io. Questo non può restare sto malato. Ah, eh. C'è la croce. Ma quando cazzo muoviti? Ho visto per entrare. Ma what the fuck. Vattene, no. Beh. No, non ti ha zatti. Aia. Oh, che cazzo. Uffacci. Oh, non ci prova. Oh, che cazzo vuole? Ma c'è un po' di una pignanbocca? Vieni qua. Oh. Oh, che cazzo vuole? No, dai. Ammazza lui. Sono morto. Ma c'è un bravo. Ma perché questo deve rompere il cazzo pure qua? Ma porco due. C'è... Ginnastica, a caso. Vabbè. Ma che ginnastica già l'ho fatta. Io non posso fare una missione che da 20 minuti di distanza te cioccano. Sì, questo già l'ho fatta. Sì, sì. Sei davvero forte, veramente, per una ragazza. Ah, in quel senso. Ah, capisco. Perfetto. Done and done right. Ok, perfetto. Riusciranno i nostri doi a fare questa missione del cazzo. Oh, ma c'è un cazzo vero. Polvere pul... Pulcinoso. Figo. Sì, ma come se esci da qua? No, da qua. Ok, ricomincieremo questa missione la terza volta. C'è un cazzo vero. No, no, no. ok, voglio farlo stupendo ok, voglio farlo parla di me e te avrò guarda me, guarda me guarda me, guarda me Qui si stavano a scopare Posso fare la bb Aio Ok uno è andato Ok Devo stand prima che io guardo Ok Si chiamano le acque Faccio una pisciatina intanto Ho completato la missione Sono viscite Sti cazzi che hai pensato ai lumagri Ho completato la missione o no Ok Ok Devo anche accompagnare l'armadietto Che rottura di palle Ma come di quello Cazzava Arusha Dovai? Forse ce l'abbiamo fatta Alleluia Oh finalmente Rispetto per i bulli-10 Rispetto per i esecchioni Un letto al volo Fantastico Finalmente siamo riusciti a fare questa missione Oh e non rompere il cazzo Due palle che sei Allora passiamo alla prossima Oh ehi No non scappare Ehi Ehi Non scappata Voglio parlare con la rossa Allora noi nello scorso episodio ragazzi Eravamo rimasti a questa missione Che è la più difficile Che non sono riuscito mai a fare E sperando che questa volta Riusciremo a farlo Ok Se vi ricordate bene In questa missione Io dovevo Siccome sappiamo già il filmato Saltiamolo E dicevo Siccome nello scorso episodio Questa missione era tosta E dovevamo scassinare Dovevamo scassinare La L'armagnetta D'estatizia E mettere le fialette Puzzoletti Dentro Dentro Però non ci siamo Non ci siamo mai riusciti Perché c'è sempre qualche stronzo Che sta dentro Alla palestra E Ci Ci impedirà Di fare questa missione Del cazzo Non sperarne bene Che non ci sia nessuno Ovviamente prima di comprare Di fare le fialette Anche se qualcuna L'ho sbagliato Ma in via Non l'ho trovata Devono a comprare Quindi Cazzo Ho sbagliato No 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 Ho sbagliato Mi sono sbagliato Mi sono sbagliato Mi sono sbagliato Me ne vado Me ne vado Me ne vado Ok Mi sono sbagliato Mi sbaglio sempre ragazzi Con la presa Faccio la presa Con Instagram E quindi Invece di Interagire con Quella persona Non interagisco Invece Chi meno E basta Insomma Avete capito Quindi Speriamo che non ci sia nessuno Cos'è? Erastici Ma vaffanculo Vattene Scassi la mette Pimenti E prendere i ponti Di laboratorio Ok Adesso Mi devo augurare Che non ci sia nessuno Cos'è? Il scintore Furto Lo lascio Panno Mi metto In qua Lo scopo Ok Adesso Non devo augurarmi Che non ci sia nessuno Ok Questo è lo spagliatoio Ma vaffanculo Ma vaffanculo Non ci sia nessuno Non ci sia nessuno Non ci sia nessuno Non ci sia nessuno E' vero c'è qualcuno E' vero c'è qualcuno Vattene puttana Lo sappiamo che c'era qualcuno Me ne vado Me ne vado E mi nascondo pure Ah Oh Ci avrei giurato Che c'è stata Quella stronza Sempre lì dentro Che deve rompere i coglioni Ma vaffanculo No Non devo cambiare i vestiti Devo Aspettate che la guardia Se ne va Ok Pazza quanto Sei brutto Bravo Mamma mia Ok La guardia se ne sta per andare Eccola là Vedi Vedi Questa stronza Dai vattene Dai via Questa è andata Perfetto Dai Vai via Ok Ok Siamo andando in bene Dai 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 Ok Non devo sbrigare Non devo sbrigare Oh perfetto Oh lì Perfetto Me ne devo andammo adesso Me ne devo andammo Dov'è l'uscita Depate Depate Puttana Perfetto Ok Missione quasi completata Adesso Menandrei Menandrei Ho detto Via 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 Non voglio far Fallire un'altra volta La missione Che per carità di Dio Ok Ho preso gli appunti E me do la grande Sono le otto un quarto Quindi Non sa che è tardi Bene Ok Perfetto Direi che ho completato la missione Oh eccola Ehi Oh Sei meraviglioso Ora piace a Beatrice Mamma mia Quanto sei Sei brutta figlia cara Però Quando piace una ragazza Questa accetterà sempre i tuoi regali Ti vorrà baciare Meno male Ah perché Pensa che Alcune volte Forse non accetta i regali Perfetto Direi Direi che posso ragazzi Ci siamo riusciti a fare questa danara missione Che non era poi così difficile Però Non lo so Mi sentivo handicappato Che vedevo di Non sono riuscito Andiamo a salvare Anzi andiamo a dormire Tiac Ole E' stai fai una dormita Che è A sveglia Oh Ok no Siamo svegli Ok perfetto Salviamo Ok ragazzi Io di concludere quale episodio Spero che vi sia piaciuto E mi scusa ancora Per aver pubblicato più video Anche se ho detto Nello scorso episodio Di Slater Che Ho detto un po' di cose A riguardo Quindi andatelo a vedere E mi raccomando Se vi è piaciuto questo video Cliccate sul mi piace Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se siete ancora iscritti Sono da Alexio E bella Grazie 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 Grazie